La Sicilia in primo piano nella lotta all'obesità infantile. La nostra regione è la prima d'Italia ad avviare in via sperimentale il programma Food Dudes premiato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il programma è stato presentato oggi a Palermo. Sentiamo. Far comprendere ai bambini l'importanza di un'alimentazione sana per prevenire l'obesità infantile. La Sicilia sarà la prima regione italiana ad implementare in via sperimentale il programma Food Dudes premiato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità col Conteracting Obesity Howard. Food Dudes rappresenta un intervento psicoeducativo pensato e progettato per i bambini delle scuole elementari e materne. L'intervento si attua a livello scolastico ed è volto all'educazione alimentare. Gli obiettivi e la metodologia del progetto sono stati presentati nel corso di un incontro con i giornalisti a Villa Malfitano a Palermo, alla quale hanno partecipato tra gli altri l'assessore regionale all'agricoltura Giovanni Lavia e i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte nel progetto. Per far comprendere meglio il messaggio è stato utilizzato il linguaggio caro ai bambini. I Food Dudes sono quattro ragazze supereroi che per acquisire i loro poteri devono mangiare frutta e verdura. L'antagonista è il perfido generale Junk. Attraverso episodi registrati su DVD e lettere i Food Dudes si entrano in contatto con i bambini a scuola e chiedono loro un aiuto per sconfiggere il generale. Tal'aiuto consiste nel mangiare il più possibile frutta e verdura, alimenti attraverso i quali si ricava l'energia per sconfiggere Junk. Il programma di ricerca in Sicilia vedrà il coinvolgimento di almeno 5 scuole delle province di Catania, Palermo ed Agrigento e avrà la durata di circa un anno.